Secondo il consueto aggiornamento diffuso dall'unità di crisi in merito alla situazione pandemica, sono stati registrati 1.862 positivi in regione Campania, analizzati 18.081 tamponi molecolari e 4.672 tamponi antigenici. Si contano anche 62 nuovi decessi, 35 nelle ultime 48 ore e 27 in precedenza, ma registrati ieri, un dato questo in crescente aumento nonostante le somministrazioni del vaccino. In provincia di Salerno sono 4 morti e 346 nuovi positivi, questo è il bilancio nelle ultime ore. Altre 4 le vittime comunicate tra le ultime ore di lunedì ed il pomeriggio di martedì sono tutte nella zona sud. Ponte Cagnano-Faiano piange due concittadini stroncati dal Covid, altri due decessi invece hanno colpito il Vallo di Diano, hanno perso la vita nel reparto Covid dell'ospedale Curto di Polla, un 76enne di Sala Consilina ed un 82enne di Caggiano. A Battipaglia, nell'aggiornamento della Sindaca Cecilia Francese, il triste computo è di 27 persone decedute. I positivi sono in aumento, infatti sono arrivati a 357 nella scorsa giornata, di cui 352 in isolamento domiciliare, 5 ricoverati. Intanto domani a Salerno, sul corso cittadino, scatta un nuovo corteo di imprenditori, la manifestazione organizzata dall'AISP, Associazioni e Imprese di Salerno e Provincia. Grazie a tutti.